Ah, che caldo. Per forza, c'è la tanto attesa e bollente classifica degli Hornets. Giusto. Alla numero 30, mica Malik Monk. Forza, c'è la notte. La danza tribale di Bionbo, sotto i tre continenti, quando l'uomo. Monk ci regala una cartolina dallo spazio. Zeller non saprà se non arrivi lunghi, ma ha deciso più nulla lo formare. Posizione 24, non ci sono rimani da evitare, ma lo spettacolo è garantito. Cosa? Cosa? È finito così? Dieci puntate e non fai vedere perché compri gli Hornets e speri perché è il braccio così colto? Ma meno vale che alla 23 c'è il PJ Washington, va? Se sentendo parlare di re del pitturato vi venissero in mente Kandinsky, Picasso, Giotto, Van Gogh, Oligabue, avreste ragione, ma il vero re è PJ Washington. Malik Monk. Malik Monk into the game, maybe some offense from him. PJ Washington. Oh, it's some fuck! Oh! Left-handed thrash! Look at this pass here by Rogier after he sees a couple of guys with him. He sees Gafford come over and says you have none of this. Monk che continua a volare ed esce dal sistema solare. Terry Rozier dipinge arce astrata. Poi dopo il stop ai box delle Williams, il Grand Premier guidato da Monk che cede alla vittoria a Cody Might. Malik. Cody Martin! Beautiful fast break! I have a little possession on the defensive end, there's a film right here. Look at Marvin come over with the left hand. Rozier trova una galleria per entrare al MIT di New York. che c'è alla 17? Esatto! Bridge. Alla 17 Miles Bridge sta derivata al vedo. Miles Oredges! Beautiful fight by Navate Grant. Momentum. Look over the top and there's Zero hanging all alone above the rim. Grab it, throw it. You cannot jam in duello al sole da far west. And hammers it! Oh, an absolute hammer job, I believe! Got a beat of mine and he knows Collin Stein is in front of the rim. Oh, Collin Stein really won any part of that. It's a long half hearted. Tim blocked this shot. Send me an angel, send me an angel, ride now, ride now, ride now, send me an angel. Alla numero 15, Malik Monk! I terrestri ricevono il messaggio di Monk lanciato dallo spazio profondo. Monk has to fire! Got it! From Romeoville! For the points scored by Malik Monk, he had 11 including this three. When he caught the ball he looked at the opposite end of the shot clock knew how much... ...e' la numero 14 e' la meravigliosa sliding door di Willi. Ernie Gomez Oh! Dior Homo! Mesmerizing by the Spaniard! Dior! Dior! Hordy! 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 Bizz si trasforma nel gigante Dante per sostegnare il peso di Drummond, dove c'è anche segnato. Se avessero chiuso i confini, Graham non avrebbe avuto problemi a segnare danno al postato. Willy gira come la Galassia e si allunga con il braccio di Andromeda. Alla posizione numero 10 troviamo la prossima giocata, forza l'Armets. Altro spin è la costellazione della Volpe indiettita dal buco nero dopo le spinne di Prince. Più freddo del famoso Teddy Dan Peterson, Rozier porta a casa la partita contro Dallas. Il triangolo no, non l'avevo considerato, starà canticchiando l'allenatore di Denver. Dalla foresta la minaccia arancio. Officio il Versailles. Come cavalieri anche Graham senza paura e porta a casa la partita. è un'esercizio. Fantasmagorico! Devonti! Ho lì! Tampaglia! Tampaglia! A quattro posto un gradito sul podio di Monke Guernam, con una truta di giustino di Malik. un po' da in grado di testo più che devonte, devontre Non lo credo, in e out, dribble, Joe Harris è tutto in il suo grill Non lo credo, non ci lasciate, non ci lasciate Ho soggetto che gli onyx vincevano con un tiro all'ultimo secondo, alla numero 2 E' outcome Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Look at P.J., how he waits for the play to develop, and again, Neal Keenan knew Devontae was going to pull the trigger. Did not matter. That young man, oh, beauty to watch. Look how far he is behind the lines. Thank you. 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 Grazie a tutti.